1983, un anno clou per la musica, specie per quelle sonorità anni 80, che in molti oggi ricordano quasi con nostalgia, soprattutto se oltre a quarantenni o freschi cinquantenni. Era l'anno anche di un brano di Cyndi Lauper che si intitolava When You Were Mine, un anno in cui ancora oggi, secondo molti fan, l'artista aveva fatto una memorabile apparizione agli American Music Awards ed era una canzone considerata ancora originale, quanto l'album in cui era contenuto, ossia She Is So Unusual. In realtà la canzone non era altro che una cover dell'originale, datata 1980, di Prince. Il singolo di Cyndi Lauper fu diffuso poi a scopi promozionali negli Stati Uniti, mentre è uscito poi in commercio in Canada e Giappone. Ma torniamo a She Is So Unusual, il disco di esordio della cantautrice, attrice, attivista, doppiatrice e regista e anche compositrice statunitense. Beh, ha fatto parte di molte cover band prima degli inizi della sua carriera, cantando soprattutto brani di Jefferson Airplane, dei Led Zeppelin e Bad Company. Nel 1978, grazie all'interessamento del suo manager Rosenblatt, ha formato con John Turi il gruppo pop rock Blue Angel per poi proseguire la sua carriera da solista agli inizi degli anni Ottanta e pubblicando proprio il primo disco di successo, She Is So Unusual, nell'Ottanta3. Grazie alla pubblicazione di singoli come Just Girls, Just Want To Have Fun, True Colors e Time After Time, tra gli altri, uniti a una personalità sicuramente originale e frezzante, Cyndi Lauper è diventata una delle icone più celebri della musica pop. All'epoca del singolo di oggi proponeva un tipo di musica che presentava un mix anche molto ben equilibrato e di ottima fattura di pop rock che strezzava l'occhio sia agli adolescenti che anche alla musica dance, con voci che si rifercevano ad un genere punk dal sound New Wave. In She Is Unusual invece fu promosso nel 1984 questo album e diventò subito un successo internazionale. Il primo singolo scelto per lanciare il disco era Girls, Just Want To Have Fun che presentava una vera e proprio inno non esclusivamente femminista che ebbe molto successo. Altre hit ovviamente non possiamo dimenticare Time After Time, una ballata che poi successivamente sarà riproposta da oltre 70 artisti. E poi ancora un brano di grande successo era Money Changes Everything. Le doti di Cyndi Lauper non vacillarono comunque neppure nel difficile compito di cimentarsi con appunto la canzone di Prince, When You Were Mine. Molti avevano creduto a lungo che il pezzo fosse un duetto di Cyndi Lauper con lo stesso Prince perché in effetti il brano è quasi tutto due voci in due diverse tonalità, una più alta e una più bassa, mentre a dire il vero tutte le voci anche quelle più basse sono della stessa Cyndi Lauper che ha cercato di fare il suo il brano senza snaturare troppo l'originale. Va anche ricordato che di lì a due anni, nell'85, l'artista partecipò al progetto di beneficenza USA for Africa cantando We Are The World e in particolare con Kim Cairns, reduce dal successo di Bad Davis Ice, chiudeva l'ultimo verso della seconda strofa con una serie di acuti appunto indimenticabili. Vinse anche un Grammy Award per la categoria miglior artista emergente e ricevette una nomination nella categoria Album dell'anno per il disco She Is So Unusual. Poi nella sua carriera c'è stato spazio anche per il debutto cinematografico, seppure per pochi secondi. E in questo caso si tratta del film di Richard Donner, I Gunis, interpretato dall'allora tredicenne Sean Astin e da Josh Prolan. In un cameo canta il tema principale, cioè The Gunis Are Good Enough. Questo pezzo poi è stato pubblicato come singolo e sono stati anche realizzati due videoclip collegati l'uno all'altro e ispirati alla trama del film. Ma ora è il momento di ascoltare il nostro singolo di oggi e dunque di darci appuntamento a presto con la prossima puntata.